Massimo? Federica immaginava che sarebbe stata trattata male. Massimo? Massimo ne scompare davanti. Hai già preso i biglietti? No. Vuoi che andiamo subito a casa mia? Le molle sono un po' dure. Ti dispiace se tengo la maglietta? Vuoi che ti spogli io? Ti devo aiutare, vero? Massimo riesce a non scomparire, ma non ad avere un'erezione. Senti, scusa, io non ci riesco. Oddio, scusami, sono un disastro.